Buonasera a tutti, grazie ancora al Palazzo dell'Esposizione per ospitare questo evento. Ci siamo dati un po' di regole, la prima forse è una delle prime conferenze che in modo che intervengo in cui partiamo nel minuto preciso in cui dovremmo partire. No vabbè, siamo un po' ansiosi, finiremo sicuramente un trotto perché il museo chiude anche alle otto ma noi in realtà è una bella chiacchierata su Manga Revolution, io ringrazio innanzitutto Sergio Algozzino e Alessio Tomassetti che sono qui con noi stasera, poi ve li introdurrò insomma. Gli applausi sono gratis. Grazie. Io sono Max Giovagnoli, qui rappresento un po' Romics perché questo evento che è stato anche un po' pensato è immaginato da Sabrina Perucca che è la direttrice artista di Romics, poi oggi in realtà lo modero io perché lei nel frattempo ha subito un piccolo intervento quindi non poteva esserci, ho accettato molto volentieri di intervenire stasera e di fare anche un po' gli onori di casa per quanto riguarda quella che è l'ideazione di questo evento. Manga Revolution, poi spieghiamo anche un po' il perché del titolo, spero tutti quanti abbiate già visto o colto anche oggi l'occasione per vedere questa mostra molto molto interessante insomma che ha fatto un bel giro del mondo, è arrivata a Roma qualche giorno fa e sicuramente raccoglie molti degli universi che noi raccontiamo stasera. Sarà una passeggiata, quella nel tempo completamente disordinata quella perché è così che deve essere, quella nel tempo e nello spazio. Sicuramente ecco diciamo io vi introduco in modo un po' rapido i nostri ospiti però in realtà già il fatto che abbiamo al tavolo un illustratore, un architetto e una persona che si occupa di marketing e formazione per il cinema insomma già vi dà un po' il senso di quante poi sono le contaminazioni che escono fuori da questi mondi. Manga Revolution, quindi Sergio Algozzino intanto illustratore, disegnatore, esordito con Panini ormai insomma qualche anno fa, poi è passato a Red Whale, da Red Whale poi è passato anche all'insegnamento diciamo forse tra i titoli più rappresentativi per ciò di cui parliamo oggi c'è Memorie 8-bit tra i tuoi probabilmente no? Quindi edito da Tunuè come altri titoli che ha in bibliografia invece con Alessio, Alessio è un designer, un architetto, un esperto di robotica, un testimonio al Wacom in Italia quindi di disegno e di come tradurre in disegno in digital painting poi in realtà ne sai parecchio soprattutto se sei un super fan manga anche tu altrimenti assolutamente non saresti a questo tavolo e credo la stessa cosa lo siete voi. Abbiamo pensato questo titolo Manga Revolution in realtà più che proprio per rivoluzione, re-evolution cioè una evoluzione che anche un po' nel pubblico sta cambiando un fenomeno che è nato come super proprio popolare questa traduzione, questo riversamento nell'animazione di quella che era l'illustrazione tutto sommato di pochi anni prima che in Italia ha avuto un boom incredibile prima scherzava Sergio a microfoni chiusi forse perfino più che in Giappone agli inizi in alcuni casi ci ha portato a tutta una serie di contaminazioni oggi può sembrare ed essere effettivamente scontato che un fumetto possa diventare un film, una serie animata dei gadget, dei toys, del merchandise quindi che abbia un'evoluzione su altri percorsi sia nei media che poi nel mondo reale al tempo non lo erano e i fenomeni di cui parliamo oggi in realtà se lo sono inventato come percorso oggi soprattutto dall'altra parte dell'oceano e abbiamo un gig come sottofondo che sembra fatto a posto esatto, oltretutto abbiamo anche degli ospiti importanti dietro oggi sembra scontato, non lo era affatto qualche giorno fa e anche qualche anno fa diciamo allora partiamo da Sergio insomma che hai portato 400 video, 700 sì io direi di partire da te poi noi magari ci inseriamo e so che forse c'è anche un microfono quindi se poi avete domande o volete intervenire è assolutamente libero di farlo allora noi faremo un discorso abbastanza interattivo perché vorrei che anche voi magari poteste partecipare proprio ci sarà letteralmente un microfono in giro quando entreremo nel pieno della discussione quello che è stato appena detto è il principio proprio sul quale si basa tutto quello che noi abbiamo intorno noi non ci rendiamo spesso conto da dove viene non so chi di voi appunto può aver già visto la mostra oppure no però per capirci diciamo di base quello che è l'inizio di tutto da una parte che è quella che abbiamo qui può essere questa no questi sono penso che voi li abbiate visti un po' tutti degli ideogrammi no? giapponesi per arrivare a poi insomma uno di quelli che è i grandi artisti più riconosciuti visivamente della storia dell'arte giapponese che è Okusai che cosa hanno in comune gli ideogrammi che cosa hanno in comune con questo tipo di illustrazioni di stampe di disegni hanno in comune il segno quindi quella che è una radice artistica tipicamente giapponese è una radice artistica tipicamente legata al segno e questo è fondamentale da cercare di imprimere per cercare un pochino di capire come poi si muoverà un po' tutto perché noi in realtà se guardiamo Okusai a parte quello che poi saranno e che poi qua ci sono anche delle pagine dei Okusai manga appunto che sono questi primi libretti in cui viene utilizzato questo termine tra l'altro so che sicuramente là in quella fila qualcuno lo saprà quindi prima di farglielo dire chiedi voi sai effettivamente che cosa significa manga c'è qualcuno di voi che sa che cosa significa manga? lui lo so che infatti già ha detto io ho già alzato la mano come? togliamo la musica e vi dà fastidio in questo momento? questo è bubbo va bene ok va bene cioè guardate allora ti dico subito puoi andare là in seconda fila da quel tizio con gli occhiali che è appena tornato dal Giappone quindi ci spieghi lei essere umano qualsiasi salve allora manga significa immagini in movimento oppure anche fra l'altro dalle varie interpretazioni che si possono dare comunque c'è anche immagini casuali insomma dipende dalle varie cose è tutto questo perché questi libriccini che fece Ocusai erano dei veri e propri libri senza un effettivo impianto narrativo erano semplicemente delle sequenze di immagini slegate tra di loro a volte con delle piccole sequenze ma niente di più noi ci attacchiamo molto all'idea dei nomi a volte li utilizziamo senza nemmeno renderci conto del perché si utilizzano in fondo quando noi diciamo la parola fumetto in italiano che per noi è visivamente idealizzato nel balloon diciamo nella nuvoletta che contiene il testo quindi è come se noi pretendessimo che l'equivalente negli altri paesi sia la stessa cosa tradotta ma ovviamente non è così perché abbiamo in Francia bandesine in America comics semplicemente perché i primi fumetti della storia del fumetto canonico per come lo conosciamo noi erano tutti fumetti umoristici quindi poi diventava paradossale che c'erano dei fumetti d'avventura che si chiamavano comics fantastico questo però era è così e comunque è quello il termine che viene utilizzato ultimamente e per ultimamente si intende quindi noi faremo una serie di salti temporali il fumetto giapponese in Italia è arrivato alla chitichella in varie versioni per poi essere pubblicato in maniera un pochino più consapevole fondamentalmente all'inizio degli anni 90 con quelle che sono state le pubblicazioni della Granata Press con quindi i vari Zero Magazine e poi tutti i primi monografici che erano Kenny il Guerriero il Cavaliero Zodiaco eccetera eccetera in quel momento storico ancora il termine manga era relativamente poco abusato si diceva con molta più leggerezza fumetto giapponese che è una cosa che adesso se uno dice quasi si deve vergognare a dire fumetto giapponese perché non utilizzi il termine manga e quindi sei condannato alla schiavitù eterna e a dolori incredibili e perché allora io quando leggo fumetti supereroi non mi condannano e mi dicono perché io leggo fumetti e mi dicono no leggi comics non te lo dice quasi nessuno in realtà sono successe tante cose e tra le tante cose non sono soltanto legate al linguaggio ma anche legate a ghettizzazioni varie perché effettivamente quando arrivarono i fumetti giapponesi in Italia in maniera più massificata appunto quindi da Granata a Star Comics in poi il lettore di fumetto giapponese era tendenzialmente quello reietto dalla società dei lettori di fumetti canonici fino a quel momento non dimenticherò mai le lettere inferocite nei vari fumetti non giapponesi quindi sui vari Uomo Ragno Capitano America o negli Albi Bonelli eccetera eccetera questi fumetti giapponesi che rovineranno l'universo e questi lettori fanno schifo e dovranno pentirsi per l'eternità e di conseguenza i lettori di fumetti giapponesi si sentivano maltrattati bistrattati da quell'altro tipo di movimento di lettori normali allora è successa questa cosa terrificante cioè che si sono create delle vere e proprie fazioni in maniera proprio esagerata cioè da una parte i lettori di fumetti giapponesi e quindi da quel momento in poi hanno cominciato a chiamare con più orgoglio non più fumetto giapponese ma manga che a quel punto proprio ti distinguevi cioè è stato per questo che da noi è come adesso dire graphic novel è la stessa cosa cioè che tu dici graphic novel pensando che sia qualcosa di diverso dal fumetto quando invece non lo è però invece molta gente viene da me e dice io leggo graphic novel non leggo fumetti che è tipo è un po' strano anche parlare di questa cosa poi un parallelo su quello che ti raccontavo te secondo me sull'animazione è fortissimo perché quando arrivarono le prime serie giapponesi i nostalgici fan Disney proprio al cento per cento che cosa dicevano sono fatti col computer sono fatti con il computer quando invece non c'era cosa più distante dalla realtà assolutamente perché gli anime giapponesi erano fatti veramente con studi molto piccoli poche persone addirittura studenti casalinghe che per guadagnarsi coloravano i sell quindi esatto infatti è proprio questo il punto della cosa il punto è che l'appassionato medio diciamo ovviamente si intende medio di o fumetto o di cartoni giapponesi anche lì potremmo utilizzare il termine anime ma vi giuro che se dico cartoni animati giapponesi non accade nulla come quando si dice cartoni animati americani è più o meno la stessa cosa poi è giusto che il termine corretto originale sia quello però tendenzialmente quando mi guardo un lungometraggio della disney non dico mi vado a vedere un cartoon mi vado a vedere un film animato cioè c'è questo tipo di rabbia e questa rabbia la sto spiegando questa rabbia è spiegata per i fumetti da questo per i cartoni esattamente questa cosa guardate vi faccio vedere questa cartelletta che c'è qui dove ci stanno in linea di massima l'ho messa fuori o l'ho messa dentro no l'ho messa dentro lo sapevo che mi andavo a confondere con tutte queste cose c'è ecco no neanche è finita da un'altra parte comunque noi quando ci siamo la storia è semplicemente questa nel 1978 quindi proprio nel 1978 arriva in Italia un cartone animato giapponese che l'anno prossimo quindi festeggerà il buon quarantennale in questo senso che è Goldrick quando arriva Goldrick in Italia che non è il primo cartone animato giapponese però il primo cartone animato giapponese di cui c'è una certa consapevolezza semplicemente perché cominciano a esserci degli ideogrammi sparsi nel cartone che si possono intravedere anche se i nomi erano italianizzati o comunque cambiati apposta perché era troppo violento lasciarli in quel momento storico in giapponese perché non c'era abituato nessuno quindi Actarus poi diventa Alcor insomma anziché Koji Kabuto che poteva essere strano ecco guardate questa è la fatidica questa è molto parziale l'ho presa in maniera molto generica però tutta questa roba che vedete sono tutti i cartoni che sono arrivati da noi cartoni della prima ora a tutti gli effetti perché quando arriva Goldrick che è un grandissimo successo e che crea la consapevolezza che i cartoni animati giapponesi potevano essere graditi al pubblico perché così alla fine è stato con Goldrick l'anno successivo che è il 1979 entrano in scena le reti private in Italia reti private che dovevano riempire un palinsesto con due lire è il modo migliore per riempire un palinsesto con due lire anziché fare trasmissioni che costavano oppure comprare altri tipi di cartoni che in quel momento costavano molto di più come quelli americani quindi in generale perché già avevano una storia di mercato e quindi sicuramente costavano di più in quel momento è stato molto più semplice acquistare in massa cartoni animati giapponesi eravamo nel 79 da quando erano stati fatti fino a quel momento è giù di lì quindi noi ci siamo beccati della roba che era assolutamente vecchissima come questa per capirci che è il primo cartone animato a colori dell'animazione giapponese che è Kimba e Leone e Bianca noi non ci siamo beccati quelli in bianco e nero che hanno fatto prima quindi il primo Astro Boy qualcosa di queste non siamo riusciti a non beccarci ma noi ci siamo beccati praticamente due generazioni e mezzo questa è del 65 ragazzi siamo nel 1965 ed eravamo nel 79 da lì al 83 84 che è questa prima botta di cartoni animati noi vedevamo in parallelo roba tipo questa per capirci in modo che così capiamo bene qual era il nostro gap visivo che era invece parallelo praticamente a quel momento storico noi vedevamo produzioni recentissime e produzioni vecchissime senza rendersene conto quindi da L'Uomo Tigre che era pure quello vecchissimo a boh Crimi Magica Emi poi vedevamo altre cose vecchissime che potrebbe essere la prima serie di Sellina Maga era una roba un'esplosione totale con centinaia e centinaia di produzioni animate anche perché c'era anche un'altra curiosità da dire che gli acquisti che venivano fatti oggi fondamentalmente abbiamo 3-4 broadcaster come gruppi che poi comprano vanno ai mercati selezionano ricevono fanno scouting in modo più o meno attento però insomma fanno scouting a livello internazionale in quel caso ho fatto tutto senza mercati cioè erano tutte library di contenuti che venivano comprati non dico al chilo ma veramente con un'onnivoricità assurda anche perché i giapponesi stessi non vendevano esatto loro non vendevano c'era anche un problema perfino di scambio monetario che era bello bello forte perché non c'era il dollaro così forte diciamo assoluto con cui si compra oggi e la loro moneta peraltro era anche bella pesante rispetto alla nostra e oltretutto non c'era neanche poi questa grossa attenzione nei palinsesti nei confronti già della costruzione dei palinsesti già per fasce quindi pre-school 5-12 12-15 eccetera eccetera quindi effettivamente questo portò in alcuni canali ad avere otto cartoni tutti su lo stesso tipo di orfani con lo stesso tipo di genere con lo stesso tipo di approccio e dall'altra parte appunto come raccontavi giustamente tu da roba di molti anni prima a roba super moderna che poi arrivava è tutto quello che noi ci siamo beccati nella nostra testa dobbiamo renderci conto perché questa è una cosa che è difficile da capire perché noi in Italia quindi è quello il punto noi siamo un paese assolutamente anomalo non è capitato in altri paesi nel mondo non è capitato cioè per noi serie di incredibile successo che per noi sono per principio dei personaggi famosissimi tipo uno su tutti chismiricia per capirci chismiricia era una serie che neanche in Giappone andava benissimo ma dato che il parinzesso italiano furbamente anche in quel caso capì che poteva essere mirata a un pubblico italico in quel senso perché effettivamente assomigliava a varie cose che potevano piacere a noi per cultura diciamo così da noi è andata benissimo come anche boh Capitan Harlock che per noi è più famoso della corazza di Yamato mentre invece è esattamente all'opposto in Patria come personaggi legati a Matsumoto oppure altre cose strane tipo quando noi leggiamo Devilman e ci sono i riferimenti alla Divina Commedia e ci sembra normale quando invece non è affatto normale cioè noi abbiamo veramente un'idea completamente falsata di quello che è l'animazione il mondo del fumetto dell'animazione giapponese nel mondo e quindi siccome da noi è arrivata tutta questa roba tutta insieme quello che è accaduto di terribile è che siamo convinti di questo ma in realtà non è così nel resto del mondo la cosa bella diciamo mettiamola in questo modo è che noi invece italiani siamo molto più predisposti adesso visivamente ad avere interiorizzato questo tipo di bagaglio visivo che effettivamente in altri paesi è ancora quasi vergine in realtà il cambio definitivo di tutto questo accadrà dopo successivamente ma accadrà da una parte cioè per capirci le produzioni grosse che escono fuori dal Giappone in un'epoca ancora non così tanto come adesso erano soltanto Akira è stata l'unica cosa che è uscita dal Giappone che fece un certo clamore al di fuori di noi che eravamo già consapevoli di tutto questo erano tutto il cinema di Miyazaki il cinema di Miyazaki che anche lì però noi eravamo abbastanza pronti visivamente perché comunque ci eravamo beccati delle cose senza sapere che erano di Miyazaki però Conan esatto tutta una serie di cose di quel tipo e poi chiaramente la chiave di volta è stata Dragon Ball effettivamente ma siamo già negli anni 90 inoltrati mentre invece noi queste cose le guardavamo da quasi 20 anni praticamente tutte queste cose qua fa altro piccolo aneddoto curioso lo dico sempre che riguarda proprio l'arrivo dei nostri dei cartoni giapponesi consapevoli in Italia quindi con Goldrake che noi comprammo dal network francese in realtà noi comprammo i diritti e in Italia è conosciuto ed era presentato come Atlas su Forobot tutti avevano i giocattoli i libri dove c'era scritto Atlas Forobot bene in realtà è frutto di un fantastico errore storico cioè che noi lo compramo dal network francese ma loro ci mandarono la guida con tutte le note di produzione legate alla serie per poterlo ripubblicare questo librone dove c'erano scritte tutte le cose che è un vero e proprio Atlante c'era scritto Atlas Forobot perché in francese Atlas sarebbe Atlante era la guida di Forobot quindi noi abbiamo chiamato un personaggio guida Forobot praticamente e nessuno lo sapeva è fantastico questa cosa qua però perché poi suonava bene no? si 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 legava con il nome Atlas Forobot quindi l'ignoranza era già insita in noi ed è per quello che io mi arrabbio molto poco quando ci si arrabbia adesso di quelli che sono tutti invece dei cambi di nome degli errori di traduzione eccetera eccetera soprattutto adesso che è un momento in cui è molto facile reperire le produzioni originali anzi se tu sei a coscienza del fatto che quello è un errore vuol dire che tu conosci l'opera originale e quindi hai maggior ragione perché ti arrabbi cioè tutte quelle cose che da noi sono arrivate sbagliate e quindi da un UFO robot a come potesse una quasi magia Johnny che invece aveva i personaggi che si chiamavano in maniera folle ed era pieno di tagli e di censure in realtà dobbiamo sempre contestualizzare storicamente queste cose quando arrivò quel cartone noi non l'avremmo potuto vedere se non ci fossero stati quei tagli e se non avessero cambiato i nomi noi non l'avremmo proprio visto non l'avremmo neanche conosciuto quindi a me va bene che c'era quel quell'errore perché grazie a quegli errori non ce ne sono stati altri dopo non subito dopo perché si è dovuto creare un pubblico cosciente di quegli errori quindi per quello io non mi arrabbio mai così tanto perché se tanto sono consapevole dell'errore vado alla fonte originale adesso trovare una fonte originale non ci viene niente cioè quando adesso si arrabbiano per una sigla sbagliata per una traduzione sbagliata chi si arrabbia per una sigla sbagliata per una traduzione sbagliata quasi sempre chi se lo guarda ormai in originale con i sottotitoli quindi che te ne frega il massimo che succede è che qualcuno che non se lo guarda in originale con i sottotitoli se lo guarda sbagliato e magari a qualcuno come è capitato nel nostro caso piacerà si informerà e poi comincerà a imparare altre cose io ho una visione molto democratica dell'errore perché poi adesso è molto più facile che vengano proiettati anche al cinema prima era praticamente impossibile ora sono produzioni che veramente possono essere a livello Disney anche superiore lo erano anche prima secondo me allo stesso livello e forse anche superiori non a caso tu prima ci hai fatto vedere Jungle Tai Tai in Ballone Bianco che Disney è proprio cannibalizzato per fare il leone questo lo sanno tutti anche i Griffin lo citano in una puntata fantastica e quindi secondo me adesso c'è più consapevolezza e si possono anche apprezzare meglio alcune cose personalmente essendo cresciuto proprio con questa cultura avendo visto praticamente quasi tutte le serie che uscivano io penso di estermi la vista di tutte di aver letto moltissimo di aver letto anche molti fumetti americani molti fumetti italiani ed europei e sono riuscito a completare questa parte con i manga per chi mi hanno completato veramente dei manga mi è sempre piaciuto il fatto della fantasia delle tematiche c'è una tematica per qualsiasi genere proprio dal target delle persone questo è fantastico perché se hai 5 anni se hai 6 anni ti puoi leggere una cosa se ne hai 72 te ne leggi un'altra magari che è come cucinare fare la perfetta cena e poi un'altra cosa che mi ha colpito sempre è il realismo di alcune cose soprattutto nelle serie diciamo fantascientifiche sci-fi quindi i robot Gonagai piuttosto che Kunio Ogawara se citiamo poi un altro grande titolo che ha cambiato secondo me la fantasia Gundam hanno studiato l'ingranaggio hanno studiato gli interni dei robot cioè non erano solamente quelli che vediamo noi tutti belli lucidi loro studiavano quello che c'era all'interno questo mi ha colpito moltissimo e secondo me ha condizionato anche il modo di fare design di fare proprio design del prodotto oppure creare appunto quello che è il design per il cinema proprio con gli attori veri e propri perché c'è sempre un riferimento io lo vedo lo vedo spesso sì sì a me la cosa che affascina è che quello che cercheremo proprio di farvi cioè il discorso che faremo oggi è proprio questo il fatto che lo stesso Giappone non era consapevole di alcune cose in quel momento storico non era consapevole che potessero esserci dei mercati interessati alle loro produzioni e però per noi italiani questa cosa sembra strana perché ce li siamo beccati tutti in quel momento lì cioè è proprio importantissimo questa cosa qua e quindi da una parte i fumetti giapponesi bistrattati come dicevamo prima dall'altra i cartoni giapponesi bistrattati perché quando arrivarono essendo palesemente dei prodotti nati per essere un riempitivo togliendo poi tutto quello che per noi sono stati però in realtà sono nati per essere un riempitivo perché te li trovavi a qualsiasi ora in qualsiasi canale cambiavi cioè io quando ho cominciato a cercare di fare una catalogazione prima di internet della roba che mi ricordavo con gli amici che ci mettevamo lì a scrivere ah quel cartone lì cioè cominciavamo a ricordarci qualcosa tipo 300 cartoni animati io dicevo però io io mi ricordo che da bambino giocavo io mi ricordo che da bambino uscivo come posso aver visto 300 400 cartoni animati bene è facilissimo da spiegare perché in realtà nel momento in cui erano in redi private ed erano totalmente sovrapposti con orari non pensati per essere vagamente logici quindi tu finivi di vedere un cartone cambiavi canale ne vedevi 5 minuti della fine di un altro cambiavi canale ne vedevi magari 10 della fine di un altro poi c'erano quei 3-4 cartoni in cui tu ti concentravi per vederti dall'inizio alla fine però poi generalmente tu in una giornata ne riuscivi a vedere 15 però in realtà ne vedevi uno bene e gli altri erano assolutamente casuali e te li ricordi tutti però perché erano comunque parte del tuo pomeriggio anche di 2-3 ore qui tu dopo i compitini dopo queste cose ti vedevi i cartoni animati quindi noi siamo stati bombardati visivamente come dicevo prima veramente come neanche i giapponesi sono stati bombardati in massa con così tanti cartoni animati giapponesi tutti insieme e quindi poi ci sono cominciate tutte le varie polemiche hanno cominciato a dire i cartoni animati sono fatti al computer c'è un'intervista ragazzi dell'epoca agghiaccianti a nomi fra l'altro credibili neanche erano i giornalisti come adesso può capitare quando c'è il classico articolo chiamiamolo ignorante no no erano articoli in mano a artisti disegnatori giornalisti che appunto chiamavano l'animatore italiano non faccio nomi tecnicamente però è così cioè e quando poi ci sono i racconti di quelli che per la prima volta vanno a visitare gli studi della Toei e scoprono che non ci stanno i computer dentro era quasi come se era una specie di 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 lingotto d'oro sì scoperta c'erano c'erano anche un altro paio di elementi secondo me che sono stati decisivi questo senza voler mettere note nostalgiche assolutamente ma proprio per spiegare anche qualche coordinata in più del fenomeno allora per esempio non c'erano canali tematici veri e propri in quegli anni per cui di fatto l'animazione aveva la pari dignità anche in termini di linguaggio rispetto al live action quindi non dovevi fare violetta per poterci mettere dentro Miyazaki c'era una che poi fra l'altro cioè un attimo piccola parentesi cioè loro facevano cartoni spesso perché non avevano i soldi per fare i live action quindi veniva meglio fare i cartoni tant'è che a quel punto sono nati i programmi contenitore in cui non erano altro che cornici inizio fine con dentro le serie animate dentro quindi da un lato questo non c'erano i canali tematici in qualche tempo in qualche modo però bisognava organizzare la giornata di chi dodì poi con una fascia che oggi è anche bizzarra perché era dalle 12 alle 19 comprese quindi oggi invece abbiamo praticamente un 14 17 ma al di là di queste cose stupide tecnicistiche da palinsesto non c'erano canali tematici ma contemporaneamente invece non c'era neanche poi una fruizione unica arrivava un po' di tutto e questo però ha creato anche un fenomeno immediatamente molto importante nel consumo del pubblico cioè molte di queste serie erano davvero serie verticali non erano serie orizzontali aveva un arco così lungo che era di fatto quasi irricostruibile per cui tu guardavi il primo episodio il 35esimo il 26esimo sapete che l'animazione ragiona in tredicesimi e quindi moltipli di 13 quindi arrivavano davvero arrivavano davvero arrivavano veramente 72 ore cose del genere soltanto per una stagione per cui tu vedevi concretamente vedevi soltanto alcuni episodi ed erano sufficienti perché in fondo erano anche verticali prima che il ragazzo le caverne arrivasse dall'ultimo episodio avrebbe comunque non poteva combattere contro l'astronavi ultimi episodi che erano una chimera perché chi riusciva a vedere gli ultimi episodi poi in realtà era fortunatissimo esatto e questo ha creato però una consapevolezza in termini di racconto di storytelling nel pubblico davvero molto forte e l'altra cosa è che erano tutti racconti fortemente di genere nascevano già fortemente di genere quindi hanno potuto fare degli slanci verso il futuro incredibili noi prima commentavamo ridendo 009 Cyborg o altre serie di quel tipo disegnavano un futuro e anche un presente nelle divise nelle armi che di fatto è davvero ancora oggi molto attuale molto contemporaneo e perfino i robot divisi a metà metà uomo i robot nella testa piuttosto che nella pancia nello stomaco lo sviluppano un mega designer c'era anche un profondità psicologica questa è un'altra cosa importante alla base che spesso non ci si riflette troppo il fatto che il bagaglio appunto visivo di partenza dai giapponesi è completamente diverso dal nostro quindi la loro fantascienza il loro horror il loro modo di fare le storie d'amore è completamente diverso dal nostro prendi la fantascienza di Matsumoto dove lui decide è l'unico l'unico che decide di mettere veramente in pratica il termine astronave cioè che sono proprio delle navi nello spazio quindi non un'astronave come noi intendiamo alla George Lucas alla guerra stellari con delle cose no è un sommergibile nello spazio una nave nello spazio un treno un treno nello spazio ma quanto è incredibile questo esatto perché non avevano una retro storia visiva così tanto grossa su quel tipo di cose cioè loro inventano è come parlare del fantasy giapponese che pure lì è completamente folle rispetto al fantasy europeo o americano ed è bellissima questa cosa qua che è ripeto però il problema di fondo è che noi spesso diamo per scontato che questa cosa sia normale solo perché noi ce ne siamo beccati tutti io ritornando un attimo sul discorso proprio delle influenze originali dicevamo noi Okusai è in generale tutto la base della grafia e dell'arte giapponese si basa sul segno e noi questa cosa non potevamo capirla e noi comunque non possiamo capirla noi per quanto possiamo amare il Giappone per quanto possiamo studiare il Giappone per quanto possiamo riuscire adesso interiorizzare visivamente narrativamente tutta una serie di cose dobbiamo sempre ricordarci che il Giappone non è chiaramente l'Italia che noi abbiamo una storia culturale artistica che è assolutamente grandiosa famosa in tutto il mondo e quindi di conseguenza ci crogioliamo anche su questa riconoscibilità artistica mentre invece loro cioè noi ragazzi chi di voi ha studiato non so storia dell'arte alle scuole si studia storia dell'arte orientale si studia qualcosa io mi ricordo solo che ogni tanto c'erano due paginette con due cose di okusai ma la professoressa nemmeno te ne parlava cioè è una roba incredibile sembra che l'arte orientale in generale tutta l'Asia ma soprattutto quella giapponese sia completamente per i fatti suoi ed è così ma è anche colpa loro per certi versi perché il Giappone in effetti si è fatto i fatti suoi fino a praticamente l'inizio del novecento cioè il Giappone è diventato famoso in maniera molto poco carina fra l'altro dal punto di vista mondiale in epoca proprio effettiva di guerra con scelte diciamo poco oculate dal punto di vista delle alleanze che loro stessi non hanno amato e hanno sofferto in gran massa però comunque era così e questo tipo di follia è quella che poi porta ad avere un paese dove improvvisamente accade uno degli eventi storici più tragici ovviamente della storia moderna che sono le bombe che vengono sganciate a Nagasaki e Hiroshima e quelle bombe che anche quelle non ci si riflette troppo ma voi avete presente quanto è grande il Giappone cioè è una linguetta di terra letteralmente due bombe atomiche in una linguetta di terra che cosa possono significare è questo tipo di trauma perché è chiaramente un trauma incredibile quello che è stato subito è un trauma che ha portato a un'immediata immediata come si dice contromossa cioè proprio siamo arti marziali allo stato puro tu mi dai un pugno io te lo prendo e ti faccio una proiezione mi hai dato un pugno l'ho incassato io non vado a terra cioè questo è proprio il principio del buscito giapponese cioè di tutta quella storia che per noi è assolutamente misteriosa che viene prima quindi il concetto di onore il concetto di sacrificio quando si parla di tanti generi di tanti cartoni la cosa fantastica è che sono tutti veramente diversi tutti leggibili da varie fasce età però raccontano tutti un'unica trama praticamente che è la sfida dell'uomo contro se stesso è per questo che i giapponesi rischiano a fare bene i cartoni animati sportivi e nessuno li riesce a fare perché in realtà che ce ne frega più o meno della partita è la tragedia che sta dietro lanciare quella palla quello che soffre perché è malato di cuore quell'altro che però ha sette anni ed è seguito dal popolo intero giapponese con tanto di telecronaca eccetera eccetera non importa questa cosa il punto è che tutto tutto una sfida a superarsi Dragon Ball continuamente Goku si allena diventa fortissimo e poi arriverà un nemico che è ancora più forte e allora lui che cosa fa si allena e diventa ancora più forte e poi ci sarà sempre una catena infinita è il principio del ninja che per saltare più in alto salta ogni giorno una pianta e alla fine salterà un albero cioè sono tutta una serie di principi proprio vari che per noi sono affascinanti ma non ci rappresentano per niente perché è facile essere affascinati da queste cose però appunto bombe atomica trovate i documentari dove si vedono dopo una settimana giapponesi che si cominciano a ricostruire le case beh Hiroshima funzionavano un mese dopo già a linee tramviarie cioè capito una cosa una cosa assolutamente inconcepibile da noi inconcepibile culturalmente e la bomba atomica diventa Godzilla cioè loro l'hanno fatto diventare l'hanno demonizzata esatto tutti i robot giapponesi tutti i nemici che arrivano e spaccano Tokyo ogni secondo funghi atomici alla fine di ogni episodio hanno esorcizzato in questo modo visivamente e quella roba là è una roba incredibile perché per noi allora basta sapere questo culturalmente noi non siamo come i giapponesi quindi non dobbiamo necessariamente essere giapponesi li possiamo capire ma non è necessario che sia così questo lo dico perché spesso chi è molto 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 voglioso di volere le cose soltanto alla giapponese in realtà se tu non sei giapponese non lo puoi nemmeno i giapponesi di adesso sono più come i giapponesi di quel momento storico là che sono quelli che hanno portato ad avere questo tipo di produzioni e quindi cosa accade accade che loro anzitutto se ne fregano se ne fregano di tutto quello che sono i beni diciamo materiali di minimi quindi cinema fumetto tutte queste cose per un certo momento storico dopo le bombe vengono completamente ghiacciati queste cose non se ne fanno più improvvisamente qualche anno dopo perché lì bisogna aspettare un minimo arriva diciamo il personaggio cardine da tutti gli effetti di quello che è l'animazione è il fumetto giapponese che è il buon Tezuka Osamo e lui se ne esce con una roba questa è la prima pagina del primo volumetto di la prima storia di Tezuka che è Shinta Karajima racconta per la prima volta un un qualcosa di autoconclusivo perché i fumetti in Giappone c'erano c'erano già ed erano molto diversi da come invece pensava di farli lui fra l'altro il buon Tezuka andò da alcuni dei fumettisti famosi che lui amava della prima ora diciamo del fumetto giapponese e lo trattarono malissimo perché lui era completamente diverso da quello che era il modo di fare fumetto in Giappone fino a quel momento e in questa tavola per me c'è tutto tutto quello che dovrebbe essere una specie di manifesto di come sarà il fumetto giapponese da quel momento in poi ci sono a parte una cosa squisitamente grafica quindi ci sono anche i fatidici occhi che diventeranno e che poi si evolveranno e che saranno il classico stereotipo del fumetto giapponese e che uno dice ah gli occhioni stanno sempre sta battuta perché fanno gli occhioni quando c'hanno gli occhi a mandorle e sono piccoli in realtà qui è molto evidente il riferimento originale a quello che era un grande amore di Tezuka cioè l'animazione americana quindi tutte le varie produzioni sia Disney che dei fratelli Fleischer stessi e questi occhi sono quelli cioè in realtà Topolino è così solo che lui ci mette i personaggi antropomorfici cioè sono umanizzati ecco sono umani non sono animali antropomorfizzati e in questa tavola siccome lui voleva fare animazione perché in effetti come poi lui ha fatto successivamente però lui voleva fare animazione e lui aveva questo grande sogno dell'animazione non c'erano i soldi per fare animazione era un momento dicevamo di povertà assoluta lui era comunque molto giovane e studiava perché lui ha continuato a studiare si è laureato in medicina nel Giappone di quegli anni mentre già era fumettista cioè lavorato in medicina in Giappone in quegli anni e facevi pure fumetti una roba bestia Tetsuya era un extraterrestre e lui fa cartone animati in questo modo cioè se voi guardate soltanto la prima vignetta in un normale fumetto avrebbero messo solo quella perché raccontava cosa dovevi raccontare un tizio che correva veloce in auto fine invece lui decide di fare tre sette vignette della stessa identica cosa quindi comincia a esserci la dispersione temporale che è la classica cosa della palla che deve arrivare in porta e ci mette dieci minuti cioè questo è il principio oppure dei baci eterni degli sguardi infiniti di quelle cose che tu pensi che si ghiaccia il tempo per non si sa quanto e lo fa perché lui in realtà voleva fare un cartone animato era quello il principio in più il volumetto stesso sancisce anche quello che è il principio del fumetto giapponese almeno come è stato più o meno in linea di massima e come è adesso diciamo in linea di massima cioè che sono storie conclusive anziché essere racconti seriali come erano comunque gli stessi fumetti precedenti che c'erano anche in Giappone e in generale i grandi fumetti americani che comunque avevano già una storia abbastanza antica qui siamo negli anni 50 quindi già il fumetto aveva una bella storia solida nel resto del mondo anche in Italia per capirci bene e quindi quasi ci sono tutte le cose ci sono le linee cinetiche e lui poi quando poco a poco tira fuori le altre cosine come Ribonno Chisci che sarebbe la principessa Zaffiro e comincia a mettere i primi fiorellini cioè queste cose nascono in maniera ragionata ma spesso anche casuale come poi nel mondo del fumetto e la cosa bella è che cosa eravamo noi invece noi eravamo questo perché questo è proprio il passaggio importante di cosa e di come noi prendiamo quelle cose noi eravamo questo il nostro modo di vedere l'arte non era un segno non era una linea ancora oggi se andate prendete un qualsiasi essere umano X in strada e chiedete un pittore in generale non ti dirà mai un pittore del 2017 non ti dirà mai difficilmente ti dirà un pittore del 2000 molto probabilmente se ti dice un pittore del 900 al massimo al massimo sarà Picasso al massimo ma nella testa dell'italiano per cultura artistica l'arte è questa questo è e non perché tutto quello che è stato fatto dopo ovviamente non vale ma perché abbiamo una è stata così tanto influente anche non soltanto nel nostro paese perché eravamo in un momento stricchio in cui dettavamo legge su come fare arte diciamo noi fino all'800 ci siamo difesi bene ecco poi comunque abbiamo cominciato ad acquisire movimenti artistici altrui ma soprattutto nel 900 è cominciato a essere tutto un po' più veloce non c'era più un unico movimento che durava un secolo grande cioè nel 900 ci sono 10.000 movimenti artistici da cose un po' più formali a cose molto più estreme e quindi questo è quello che rappresentava per noi il modo di disegnare questo è quello che per noi è stato di conseguenza il primo fumetto il nostro primo il nostro modo di fare fumetti all'inizio era realistico fortemente realistico ed è per questo che in generale ancora oggi la cultura del fumetto italico è realistico perché viene dalla nostra matrice artistica non c'è niente di male in questo la differenza è che in Giappone sono molto orgogliosi della loro provenienza artistica e di molte delle loro tradizioni per certi versi anche se alcune cose cominciano a traballare invece noi perché culturalmente l'Italia è anche così siamo amanti della ribellione siamo amanti del dovere necessariamente rompere quasi con la tradizione a tutti i costi questa è una cosa terribile non a caso nella storia del fumetto mondiale gli unici paesi cioè pensate bene questa è un'altra cosa che non si sa molto quanti sono i paesi al mondo che producono fumetti al mondo non che leggono ma al mondo che producono fumetti i grossi paesi al mondo che producono fumetti sono soltanto gli Stati Uniti il Giappone l'Italia la Francia che accoppiamo col Belgio e poi possiamo essere gentili con certe produzioni non così tanto massificate che ovviamente vengono dall'Argentina dalla Spagna in Inghilterra non c'è niente per dire per niente ci sono questi autori inglesi famosi lavorano per gli Stati Uniti direttamente in pratica poi ovvio che ci sono artisti di tutte le nazionalità ma i grossi paesi i grossi sono questi qua e la cosa terribile di tutto questo è che noi non lo sappiamo quando il fumetto italiano ha fatto i suoi buoni cento anni cioè perché noi abbiamo iniziato a fare fumetto con il Corriere dei Piccoli eravamo nel 1908 nel 1908 questa cosa è stata praticamente passata totalmente in sordina in Giappone hanno lo stesso vizio dei francesi e degli americani che sono i tre mercati che in effetti funzionano di più dal punto di vista della diffusione o comunque delle vendite interne anche se pensate le vendite dei fumetti giapponesi interni delle riviste sono incredibili perché tutti leggono fumetti anche chi non è appassionato di fumetti ce lo legge il lavoratore che deve andare si riprende dalla metropolitana e deve andare al lavoro stessa cosa può accadere in Francia dove molti fumetti sono letti da non lettori di fumetti in America no però sono comunque in comune con loro che cosa hanno un certo tipo di patriottismo che è una cosa che noi in Italia invece abborriamo nella maniera più assurda inoltre che prendiamo in giro i francesi perché li prendiamo in giro perché sono patriottici diciamo sempre questo e però se ci pensate in Francia si trova nelle librerie ancora i volumi di Becassin che è il primo fumetto francese in Giappone non è difficile trovare Astro Boy come simbolo ancora oggi di un pacco di cereali o di una cosa di caramelle come Yellow Kid per gli Stati Uniti è diciamo popolarmente riconosciuto e noi il signor Bonaventura dove ce l'abbiamo da nessuna parte non se lo ricorda nessuno il nostro fumetto più antico che ci ricordiamo prodotto in Italia è Topolino che non è neanche nostro oppure Tex e dobbiamo andare negli anni 50 e ci bruciamo 50 anni di fumetto italiano che è una cosa incredibile e questo è perché noi non crediamo troppo sempre dobbiamo sempre pensare che le altre cose siano migliori quando invece la cosa bella è che sono diverse e che ognuna di queste cose è bella perché è diversa danno ricchezza proprio alla cultura del fumetto dell'animazione cioè danno la possibilità anche magari agli autori italiani di poter attingere da conoscenze che sono importanti quello che dicevamo prima il mega design quanti autori oggi italiani fanno infatti ti volevo chiedere qualcosa in più su questo così si riposa anche un attimo tu sparami qualche mega metto il tuo ok ok vai era la slide guarda no c'è una cartella Mangasia tanto per avere un titolo originale metti subito quello quello di Gunda no metti quello di Gunda poi parliamo di altre cose volevo parlare un secondo su questa cosa qua quando arriva questo questo personaggio quando arriva questa serie cambia tutto perché cambia tutto perché per la prima volta non c'è un solo eroe un solo robot che difende tutta la terra c'è un esercito ispirato a Fanteria dello spazio di N.L. ispirato insomma anche altri romanzi però per la prima volta visivamente ci racconta come un è un soldato è un robot soldato ce ne sono tanti ce ne sono tanti uguali ce ne sono tanti magari con una livrea diversa un po' come nella seconda guerra mondiale no? cioè una cosa importantissima vengono riparati cioè questa cosa secondo me ha cambiato totalmente la nostra visione avevano le armi limitate le armi limitate cioè non ci sono più l'arma finale non c'è più quella che no? i bellissimi robot di Konagai però avevano poi alla fine l'arma finale oppure quelli della Sunrise e chiudevano no? potevano usarla subito però vabbè poi non ci sarebbe stato il racconto della storia qui c'era veramente la la drammaticità unita a un design realistico e questa cosa secondo me ha cambiato totalmente il modo di vedere questo tipo di personaggi e delle storie tant'è vero che molti appassionati io personalmente sono andato a cercare gli studi di questi anime gli studi di questi di questi fumetti di questi manga perché negli studi tu ti vai a vedere ti vai a in maniera grafica capisci come sono riusciti a creare un mondo quello che tu hai chiamato prima l'Atlas e poi hai dato il nome a Grandizer perché comunque va fatto secondo me quando si crea un progetto nuovo che sia un progetto di fumetto un progetto di un anime un progetto anche di prodotto industriale qui agganciamo secondo me quello che è il lavoro anche del designer si studia qualcosa che deve essere poi realistico anche se ispirato al futuro perché ci piace Blade Runner perché anche se le auto volano sono realistiche se avete visto l'ultimo avete visto anche un marchio molto famoso quindi questa è la cosa secondo me interessante poter riuscire a dare realismo anche su cose che sono surreali in realtà e questo è stato anche diciamo un altro dei segni di modernità io aggiungo soltanto due elementi allora uno in effetti l'attenzione che c'è stata verso il design per la prima volta ha tirato dentro l'ingegneria cioè molti dei film americani che non abbiamo visto lo stesso Blade Runner come production designer quindi come scenografo in realtà aveva un designer di auto no? Sid Mead quindi era una persona che faceva le Ford faceva pubblicità e lì dentro si è inventato un futuro fatto fondamentalmente in quel modo lì ma dove è andato a prendere ciò che c'è di innovativo a Singapore in Giappone quindi adesso noi lo rispolveriamo con Ghost in the Shell o altri film in quell'ottica lì però c'era il design vero quelli di Gundam erano designer di armamenti per cui in effetti ancora oggi ma da Elo a tutti gli altri videogiochi che vanno a recuperare suit di vario tipo devono andare a ispirarsi lì c'è sempre quella ispirazione anche se sono tutti diversissimi sono passati ovviamente diversi anni ma c'è sempre quella ispirazione che poi era un'ispirazione legata alla storia perché se guardiamo bene il mobile suite bianco ti racconta la maschera dei samurai che andavano in guerra con questo tipo di armamento che doveva anche spaventare così come il suite doveva spaventare il nemico in qualche modo quindi c'è questa tradizione però portata all'estremo diventata quasi tecnica ingegneristica la robotica fantascientifica che poi diventa robotica vera quando io ho lavorato su temi di robotica prostetica quindi temi anche abbastanza sensibili però mi sono reso conto che in fondo i pazienti che hanno subito questo tipo di trauma non volevano un arto uguale identico al reale perché per adesso è ancora impossibile cioè lì è veramente fantascienza non è possibile fare ricostruire una mano esattamente uguale c'è sempre qualcosa di diverso allora facciamo un design che sia completamente innovativo che sia veramente un oggetto tra virgolette ripetendo la parola scusatemi ma di design in modo che e lì l'ispirazione a me è venuta avendo visto tantissimi anime avendo letto tantissimi fumetti ho disegnato è stata realizzata poi ovviamente con l'istituto di biorobotica e ingegneria che è quello del Sant'Anna a Pisa e lì non mi hanno detto tu sei pazzo perché hai visto gli anime e hai letto i fumetti e quindi ci hai dato una cosa che è completamente diversa da quella che facciamo noi che invece erano scatole che formavano le dita e la parte della mano io il mio background l'ho basato su tantissime cose la parte giapponese devo ammettere è una parte importante del mio background come designer come architetto come visualizzatore assolutamente ma anche perché poi fa parte proprio di quel boom che dicevamo prima di rivolta post bomba in cui è stato cioè proprio quello è stato schematico è solo dire diventiamo una potenza e loro sono diventati una potenza commerciale in quello che però rispetto agli Stati Uniti che sono diciamo gli altri rivali chiamiamoli così come potenza equivalente anche come gioventù storica ricordiamoci sempre proprio che il Giappone è così assolutamente anche noi però è incredibile noi siamo pure equivalente ai piccolini però noi ancora ci crogioliamo troppo sui fasti del passato noi rischiamo di diventare la Grecia del futuro c'è anche un altro un altro ingrediente secondo me della manga revolution che va un po' citato in particolare in Italia dove poi in fondo abbiamo modi di raccontare molto simili cioè quando noi facciamo sceneggiature in genere dividiamo sempre le narrazioni in tre atti e gli italiani così come i giapponesi sono dei super esperti del secondo atto quanto ci piace dilatare il momento più drammatico di una storia e poi spesso ci perdiamo un po' nel finale o gli diamo poca attenzione e questo magari nella serialità è ancora più forte ed evidente rispetto al cinema e forse mi piace pensare che molti degli sceneggiatori che poi più o meno hanno età simili alle nostre insomma anche quelli più giovani però in realtà siano un po' eredi anche nel modo di raccontare storia di quel momento lì di quel momento in cui quella palla lanciata verso la porta non arriva mai di quel calciatore che perfino nelle canzoni voglio dire sta lì e se la gioca sempre al centro campo mai poi nel tiro finale cominciamo a diventare bravi nel tiro finale con qualche serie non a caso o con qualche diciamo film particolarmente giovane in cui però i richiami al Giappone sono evidenti proprio stra evidenti addirittura degli omaggi no? esatto assolutamente da chi lo chiamiamo oggi che robò al resto e questa cosa sta diventando molto forte anche in America con Romics siamo un po' diciamo così anche un punto di vista privilegiato perché facciamo venire tanti americani tanto giapponesi quindi vediamo anche registriamo anche un po' anno dopo anno no? come stanno cambiando anche come sta cambiando il pubblico giapponese e cambia molto in modo molto simile al nostro prima eravamo noi che ci facevamo le sopracciglia scolpite per avere per trasformare il nostro viso diciamo simile a quello dei manga no? anche quello dei ragazzi ora è un po' anche l'opposto sì noi gli stessi americani qua diciamo il film cardine dell'animazione in questo senso è stato proprio la sirenetta che portò una serie di elementi che già c'erano infatti questo è del film precedente Bianca e Bernie nella terra di canguri che però non ebbe lo stesso impatto di pubblico ma la sirenetta portò un certo tipo di gusto con un certo cioè qui è il gioco degli scambi tezuka che si lascia influenzare dall'animazione americana l'animazione americana che poi si lascia influenzare dall'animazione giapponese ed è un gioco che ormai è impossibile controllare è anche impossibile capire dove perché prima era molto ricercato ed era semplice anche capire come era andata cioè io ho fatto quel viaggio ho visto quella cosa mi ha colpito siccome adesso non c'è più bisogno di fare un viaggio per essere colpiti da quella cosa perché da internet in poi da una diffusione quindi non soltanto legata a essere fisicamente da una parte ma un'immagine si diffonde rapidamente ed è per questo che dal punto di vista visivo nell'animazione nei fumetti in tutto come può essere anche un meca design un altro tipo di di cose è chiaro che questo tipo di movimento è molto più semplice noi per noi è ancora più semplice perché come abbiamo spiegato prima queste cose ce le avevamo già dentro e ci sembra strano quando invece negli altri paesi non è così in America hanno cominciato a diffondere in maniera massiccia le produzioni giapponesi da relativamente veramente molto poco in questo senso hanno messo Alex Ross ad esempio quando hanno fatto hanno obbligato i fumetti di Gatchman ci hanno messo Alex Ross perché il copertinista superstar poi lui si è appassionato talmente tanto che ci vuole fare film, animazione tutto però questo è un segno evidente sì sì assolutamente cioè noi siamo molto fortunati perché stando in mezzo ci riusciamo a siamo una specie di punto a metà dove riusciamo a intercettare le cose da una parte e dall'altra in effetti la nostra storia insegna che del fumetto dell'animazione non abbiamo mai avuto grandi pregiudizi e anche se c'erano tutte queste varie polemiche o no però ci siamo sempre visti e letto un po' tutto in America dovete pensare che fino a tutti gli anni 80 praticamente non esistava altro fumetto al di fuori di quello americano e quei pochissimi artisti tipo un Frank Miller che se ne usciva con della roba che era veramente considerata strana strana forte come poteva essere il suo Ronin che era chiaramente influenzato da Long Wolf and Cub ad esempio come lui perché lui si andava a cercare dei fumetti giapponesi in realtà lui si andava a cercare anche dei fumetti italiani lui era uno dei pochi che magari poteva già conoscere un Sergio Toppi che per noi è assurdo che siano autori non famosi nel resto del mondo anche perché poi in Francia in realtà noi abbiamo degli scambi continui però un Miller era così era uno anomalo quando uscì questo era un fumetto veramente anomalo negli Stati Uniti quando poi lui quando poi arriva un Tarantino e si tira fuori in Kill Bill tutte quelle influenze da film cinese di Hong Kong pienissimo di riferimenti a tutti i film di Hong Kong a tutti i registi che noi in Italia nelle redi private ce li siamo beccati tutti tutti assolutamente a partire ovviamente Bruce Lee è un altro discorso perché Bruce Lee era famosissimo pure in America e quindi ok però in generale noi abbiamo veramente avuto un tipo di impianto in mezzo e quindi noi in Italia tanto per citare proprio velocemente qualcuno abbiamo esperienze di tutti i tipi da artisti che sono palesemente influenzati graficamente da cose giapponesi artisti invece che hanno interiorizzato queste cose che non si vede esteticamente quindi basta vedere tra le primissime cose ad esempio è molto semplice vedere il quando uscì per dire witch in Disney era una roba veramente stranissima quando uscì in Italia ed era un mix tra cose giapponesi tra l'animazione americana che ormai faceva strizzava l'occhio alle cose giapponesi e cioè in questa immagine noi solo solo in questa immagine vediamo se vedete c'è Sailor Moon e qui proprio tanto come riferimento scemo c'è un gozzillino ma in generale tutta la serie si basava su un impianto alla chiamiamola Sailor Moon quindi con ragazze con poteri diversi con caratteristiche diverse eccetera eccetera che era una cosa che per noi italiani che già ce l'hanno visti non soltanto Sailor Moon ma tutte le varie maghette così questo tipo è assolutamente normale e gli autori che sono Alessandro Barbucci Barbara Cane dal punto di vista visivo ma tutti gli altri che ci hanno lavorato erano tutta gente che si era vista sti cartoni e quindi era naturale far nascere questo come poi dopo è stato fare Sky Doll in Francia che è una produzione stranissima in Francia perché per noi può essere normale vedere una roba così ma in Francia glielo hanno rifiutato 3000 volte prima di vederlo pubblicato perché era un fumetto serio serio non quindi Witch che era un fumetto per ragazzi Sky Doll è un fumetto serio con dei disegni che per i francesi erano accoppiati a cose per ragazzi quindi per loro che sono molto rigorosi in queste schematizzazioni quindi fumetto serio uguale disegno realistico questa cosa era stranissima metterla insieme ad arrivare poi proprio prendendoli veramente così ci sono quegli artisti invece interiori come un Igort che invece si è ritrovato a lavorare in Giappone e quindi in questa immagine per chi poi anche se è visto già la mostra sopra ha visto tutto quello che ha a che fare quindi non soltanto col fumetto giapponese moderno ma con quella che è la cultura artistica di riferimento quindi basta vedere i quadri le illustrazioni cioè in realtà qui c'è a voglia se c'è ma se uno pensa a dover lavorare per un mercato giapponese in maniera naturale si pensa che uno dovrebbe disegnare in stile giapponese invece in realtà è la cosa più sbagliata di tutte perché se io italiano lavoro per il mercato americano comunque anche se metto del mio del disegno di americano avrò soltanto la composizione è tutta una serie di cose narrative ma devo disegnare comunque a modo mio per certi versi difficilmente io autore italiano che copio diciamo così John Buscema lavorerò nel mercato americano invece è molto più semplice fare capire che tu quell'istinto grafico ce l'hai dentro non è semplicemente uno scopiazzamento così stilistico e basta però poi ci sono tutti quegli artisti ne prendo uno proprio anche Andrea Cardi ad esempio uno di quelli proprio pazzeschi perché lui è ah no perché mi ha fatto pure dei video incredibili di Andrea lui è uno che ha un così tanto interiorizzato il il disegno giapponese che anche se in lui è molto più palese rispetto a un igort come abbiamo visto prima cioè perché qua è proprio chiaramente assolutamente palese lui lo fa in una maniera così tanto naturale che è evidente che non è uno sforzo uno sforzo creativo cioè non è una cosa che io faccio che mi metto quei riferimenti davanti e dico lo voglio fare in quel modo lì cioè lui proprio disegna disegna così come può essere Andrea che a parte questa che è una cosa che ha pure la tematica chiaramente a tema e quindi anche più facile ma lui lo faceva pure su John Doe lui disegnava in questo modo quindi era la stessa cosa una Mirka Andolfo che mixa anche lei un sacco di roba che viene dall'animazione da Barbucci da una parte a tutta una serie di altri autori e influenze varie Luca Genovese ha fatto proprio una vera e propria ode al ai fumetti proprio ai robottoni con tanto di esatto riferimenti vari specifici ed è bellissima questa cosa perché proprio perché noi in Italia siamo stati così tanto anomali riusciamo a fare delle cose convincenti solo però quando gli mettiamo la nostra cioè quando sono digerite e sputate solo Matteo poteva fare una chitarra astronave al pari di Matsumoto con la nave solo Matteo poteva fare una chitarra astronave lui se non lo conoscete ragazzi cercatelo perché Matteo De Longis è veramente un genio io li faccio vedere e tu tu puoi dire quello che vuoi a questo punto a me piace che ci sia comunque lo stile dietro nel senso noi italiani siamo stati bravi in questo abbiamo preso tanto perché c'era tanto da prendere c'era tantissimo da prendere c'è arrivato tutto però abbiamo interiorizzato e creato lo stile perché Mirka Andolfo la riconosce dallo stile Matteo De Longis lo riconosce dallo stile Lorenz ho visto c'è la cartella pure sua non far finta di niente lo riconosci dal suo stile e non hanno copiato hanno interiorizzato hanno preso il buono che c'era tutti i riferimenti tutti gli input che ci sono arrivati massivamente dal Giappone dal mondo giapponese io voglio intanto sentire se qualcuno di voi vuole fare una domanda poi mettiamo qualche ultimo punto prima di lasciarci altrimenti poi noi andiamo avanti a ruota libera avete capito che siamo piuttosto appassionati abbiamo domande? ok no? allora volevo metterci un'ultima cosa un'ultimo ingrediente nel cocktail che diventa esplosivo a questo punto questo cocktail con l'ultimo ingrediente no no sto cercando dall'olio che sono sicuro che c'è un'ultima cosa è rimasto solo questa cosa bellissima si è ripreso ok tu cerchi questa cosa io direi che la vera rivoluzione è anche questa tu parlavi prima di disegno di tratto la giapponese no? attualmente è un mezzo giapponese quello che usano tutti quanti i disegnatori un po' più avanzati sul digitale no? se parliamo di disegno digitale il brand leader mondiale fa proprio questo cioè tutti usano questo ne abbiamo visto una similare in mostra non è la stessa però ad oggi si fa anche molto in digitale e questo secondo me è importante perché ti permette di lavorare ovunque tu sia sì perché adesso è appunto nel momento in cui c'è questa contaminazione totale proprio per chiudere il discorso della contaminazione ormai se prima era molto facile riconoscere perfettamente uno stile giapponese uno stile americano uno stile italiano a parte quelli che sono chiamiamoli gli stili generici della produzione magari grossa però è bellissimo questo anche i giapponesi ormai hanno moltissime contaminazioni con cose occidentali dal punto di vista visivo e grafico e quindi americani francesi in questo momento ormai è tutta una super minestra meravigliosa dove ci sono colori scambiati dove le tecniche non sono più così tanto di identità stilistica cioè prima tu pensavi che ne so giapponese linee cinetiche retini cioè proprio li schematizzavi italiano griglia sevignette pennello fine bianco e nero americano colore supereroe cioè invece è fantastico che ormai è tutto diverso soprattutto tra Italia e Giappone dove c'è questo amore comunque condiviso continuo sì quest'ultimo invece l'ingrediente che dicevo era il fatto che poi addirittura prima anche di di Lucas di Star Wars e tutto eccetera se andiamo a vedere quelli che poi sono le property quello che oggi chiamiamo property che passavano da un settore all'altro eccetera in effetti anche qui i primi sono stati in questo caso Isshinomori ma insomma Kikaida era una roba che forse è super nerd da questo punto di vista però insomma siamo tra il 69 e il 72 però c'era il live action che arrivava praticamente in contemporanea con la serie animata e quindi anche i movimenti che ci facevano ridere erano sempre gli stessi i ragazzini si muovono in quel modo allucinante perché poi fanno parte in realtà appunto del mondo marziale del mondo anche politico anche della comunicazione politica di quel tempo perché poi se uno va a fare qualche ricerca e vede i telegiornali giapponesi di quegli anni si muovono esattamente nello stesso modo rispetto a loro però è stato davvero qualcosa di importante anche dal punto di vista pensate che molto di quello che poi sono stati i reparti che oggi chiamiamo il Marvel Cinematic Universe chi è cresciuto dentro quei reparti lì si è formato perfino ad Hawaii uno dice perché tutti questi che vengono stanno da Hawaii e stanno alla Marvel perché fondamentalmente Hawaii è stato proprio uno dei primi mercati in cui le serie giapponesi arrivavano all'isola sdoganate perché erano stato indipendente rispetto agli altri peraltro anche diciamo con elementi geografici molto simili per cui da lì poi arrivavano in America e quindi è normale diciamo un po' come tu stavi dicendo per alcuni disegnitori italiani è normale che quello studio e quindi quel tipo di approccio entri direttamente nelle major come immaginario come ispirazione e dentro tant'è che ci troviamo un sacco proprio di citazioni dovunque voglio dire allora il noi siamo più o meno arrivati come tempi ci eravamo dati questo questo orario anche un po' con il palazzo rispetto a dare qualche ultima informazione o domanda anche se poi siamo stati belli secondo me abbastanza fluviali io posso parlare ancora per altre otto ore sì sì il rischio il rischio l'avete capito che è molto forte vi prego fate una domanda anche dopo cena insomma voglio dire no no ci siamo avete delle curiosità rispetto a quanto vi siamo detti una vai come si chiama lei ah ah ok che purtroppo stavamo vedendo i tanti disegnatori che si sono ispirati al manga che li hanno interiorizzati però purtroppo oggi giorno ancora sono abbastanza discriminati perché se dicono che fanno manga o comunque disegnano la giapponese vengono quasi sempre tacciati tra le rare eccezioni ovviamente fortunate come Mirkandolfo come scopiazzatori mi domandavo perché questo si fa solo spettamente con chi comunque fa in tecnica manga o comunque fa un disegno della giapponese vedo che c'è un forte accanimento verso questi disegnatori perché non devi dirlo esatto cioè se tu dici io sono secondo me già sbagliato dire io disegno manga cioè è quello secondo me l'errore perché un Igort o un Lorenz o un Werther o un Andrea Cardi che fanno normalmente fumetti con fortissime influenze giapponesi io non li vedo discriminati perché loro non fanno fumetto giapponese loro fanno fumetto con quel tipo di influenza cioè secondo me è quello dimmi tu che pensi la stessa cosa che penso anch'io cioè proprio forse è lo stesso autore in qualche modo che deve dire denunciare proprio sto facendo fumetto sto facendo arte perché arte anche questa è una cosa che va passata come messaggio non sto assolutamente copiando nessuno ho uno stile che ho veramente maturato nel tempo qui io in effetti una cosa mia la posso far vedere per capirci perché non io so che dentro di me ci sono tantissimi tantissime cose tantissime cose anche giapponesi se io disegno questo è chiaro che si vede perché è un palese riferimento a un'opera esistente come era prima cioè se io faccio un robot se faccio devilman è chiaro che però quando io disegno questo o anche questo per me è un un qualcosa dove io so che tra le tante cose c'è un sacco di fumetto giapponesi infatti a me quando mi chiedono quali sono gli autori che ti hanno influenzato è una domanda terribile per me perché io amo tantissimo il fumetto amo tantissimo tantissimi autori completamente diversi tra di loro e quindi per me è molto difficile riuscire a a capire qual è effettivamente io però so che da Kosuke Fujishima che è l'autore di Omiadea ci ho preso la mania delle linee sottili proprio ognuno delle cose che da Konagai ci ho preso vabbè da Konagai ci abbiamo preso tutti questo l'unico comune che ci abbiamo tutti è quello dalla Takashi ci ho preso un certo tipo di ma alcune cose sono grafiche e alcune no certo anche narrative esatto questa è la cosa importante è quello che dicevo prima alcune cose interiorizzate non sono specifiche a me ogni tanto mi ricordo Andrea appunto a Cardi una volta quando feci le cose mi ricordavano delle cose tipo del Miyazaki che disegna non del Miyazaki animato e io da lì ho cominciato a effettivamente fare pace con questa cosa perché il segreto è quello non deve essere una tua bandiera ma devi semplicemente fare pace con tutto quello che fa parte di te e fa parte di me tutta l'influenza giapponese ma contemporaneamente fa parte di me anche quello che è un normale ovvio inconsapevole anche bagaglio visivo venuto dal fatto che io sono italiano e che quindi quando nasco vengo bombardato da quelle cose che di cui abbiamo detto prima è che noi per cultura siamo in quel modo lì noi non possiamo rifuggire dal fatto che abbiamo secoli di cultura realistica in Italia quindi in qualche modo queste cose devono far pace tra di loro Lorenz quando si tira fuori le sue cose che sono tra le più forse esteticamente esplicite rispetto a quelle che abbiamo viste però c'è c'è palesemente anche dell'italianità qua qua dentro nonostante tutto in in questo secondo me il segreto è semplicemente proprio adesso proprio in questo momento cioè prima io dieci anni fa questa cosa la la vedevo che si soffriva di più perché era una cosa dove ancora c'erano veramente delle ghettizzazioni però secondo me adesso dove anche sui fumetti Marvel ci sono autori super giapponesi come come influence non ci dovremmo più porre il problema però non andarcela a cercare perché andarcela a cercare il discorso della ghettizzazione di prima cioè se io poi nel mio unico scopo nella mia testa non è pubblicare in Italia o in America o in Francia in quel modo ma è pubblicare per la rivista giapponese allora me la sto andando a cercare allora allora è quello il problema è certo che poi mi creo il problema un'altra domanda anche ultima poi in realtà penso che non abbiamo molto più tempo sì scusate chiedo scusa a tutti no no ma che se abbiamo fatto una bellissima chiacchierata ne abbiamo altre? va bene allora è il momento dei saluti io di nuovo ringrazio il Palazzo delle Esposizioni ringrazio Romex e Sabrina insomma per aver inventato e coordinato questo progetto questo incontro ringrazio Sergio e Alessio per essere stati con noi vi invito di nuovo se non l'avete fatto a vedere la mostra perché comunque è molto ricca e sicuramente ricca di spunti e di sguardi diversi non soltanto sul mondo giapponese ma su tutto quello asiatico buona serata grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti